Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video, questa volta in un video tratto da una live fatta qualche giorno fa e una vittoria insieme al mio amico e concittadino e vicino di casa Gesù del clan Mannaggia quindi prima di lasciarvi al video vi invito a partecipare alle live che faccio la sera più o meno dopo cena a seconda dell'orario a cui riesco diciamo a collegarmi un po' in tranquillità perché il giorno c'è troppo casino in sala e non riesco a farle e di solito fino all'1 alle 2 di notte rimango live con Call of Duty Warzone infatti sono riuscito nelle scorse live a trovare un setup abbastanza degno per poter portare questo gioco in live quindi vi invito a partecipare e vi lascio al video, buona visione soldato nemico in arrivo elimina tutti i bersagli nell'area operativa cassa di scorte identificata posizione contrassegnata c'è gente qua da me e niente dove? da sopra? sopra, è cracatissimo compagno inviato nel gulag combatterà per poter tornare in azione stanno pure dietro a stanno qua dentro compagno al via libera per il rischieramento una cassa di protezione vai bultano oh però c'è un'altra cassa di protezione a terra ok eliminato ciò mettono i cazzo di contratti lontanissimi che cazzo mi rappresenta? sì vabbè però è ridicolo sto sciagallo c'è questa fa paio chilometri oh si sparano dalla torre dove andano da qua? dove stanno? mi hanno colpito mi hanno colpito mi hanno colpito mi butto la carta sta qua meglio e madre che non scappò Che palle Oh a terra Vaffanculo uno Vai possiamo scappare Oh di qua di qua Oh merda Un po' concrociato No non si può Sei l'ultimo del tuo team Completa il lavoro È un team a sinistra comunque Occhio Ma crepa stronzo Finiti i colpi Lui però ce li potrebbe riavere Fai classi su questa Occhio Non lo prendi C'è il draw Quello Il primo principale raggiunto Tutte le casse di scorte trovate Ma vatta 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 Cosa strana Perché sopra non era da solo lui Stava con un altro No ma è più di un team È più di un team Certo No sulla torre Io ho ammazzato Prima lui Oh saldo in corso Trezzi delle stazioni di acquisto ritoccati Tu posso restare gratis Sì io non ce la farei mai Non ci provo Eccoli Lo stanno a fare in boscata Lai tra il muro Ok non c'è colpi Mannaggia Marda Mi piglio Bruen Uabinemico in volo Uabinemico in volo Costile in discesa nell'area Campi terminati Prezzi tornati alla normalità Lui aveva ammazzato Vado sulla torre Lui aveva ammazzato Autonomia UAV esaurita Dentro alla base Perché non sparano Gli attaccano Puro Mi sono diventato male Ma che c'è due assalti tu Sì Fucile d'assalto Puro Prossimo Vittimo localizzato Pure dietro Puro Non ho vinto le corazze Alla stanno pure là Versaglio taglia a contrassegnato Uccidetelo La torre è clear Se lo vuoi prendere Se lo vuoi pigliare L'approvvigionamento Lo puoi prendere Ok Mi hanno colpito Sparano Stanno sul testo Ma sono morto Un fraccato Un fraccato Però c'ho poche munizioni Ehm Sono cazzo di problemi Ho gente qua da me Ok Io però arrivo da te Ci si piatta Un avvi nemico in volo La tua squadra è stata eliminata Resti solo su Ho fatto uno Qui c'è un venditore Qua servito prova Alla nuova zona sicura Lancio d'equipaggiamento alleato In arrivo C'è gente Sotto Ma dai No Dove è stato? Dove è stato? Sotto al ponte Non è possibile Vaffanculo Vai fall di merda Oh mannaggia santa Meno di dieci alla fine Continua a combattere Non sta laggiù Quasi tutti da soli Stanno a pie la torre i furbacchioni Anche se se ci stai sotto che non ti vedono Poi loro si devono buttarci Sì 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 quello voglio fare Quanti siamo? Quattro sei? Fantasma Cosa di safe? Sì 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 Più che altro non c'ho colpi Un peccato Ne restano solo cinque Finisci la missione Ah Tutti le uno Come si stanno a sparare tra di loro Li ammazzi Vai Sarà davanti a te Lo vedo Lo vedo Bellissimo Ah 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 Anzi è Merbevitro Partia così brutta Eh No invece Questa è così simpa Le partite strategiche Stai infane troppo Sì sì Sono migliori Questa è tipo mille di l'anno Ma nemmeno Questa è tipo mille di l'anno Oh cosa buon buon? È il giusto È il giusto A mille e due l'anno È il giusto GG GG GG